la cosa ancora non è chiusa c'è forte interessamento però non c'entra niente la prima cosa che mi fa di sottolineare che non c'entra niente il Genoa non so come mai è uscito questa cosa ma il ragazzo che dovesse venire viene alla Lazio e basta. Il fatto riguarda la chiusura delle cose stiamo vedendo però ancora non è ancora firmato quindi quando non c'è la firma nel calcio non si può mai dire niente vediamo stiamo vedendo perché ci stanno anche altre squadre molto interessate però devo dire che la Lazio ieri io dal 6 dicembre che parlo di questo ragazzo in un mese però ieri mi ha dato insomma diciamo va detto di sprintare su questo io sono il presidente del Liverpool a Milano e vediamo nelle prossime ore e spero che si possa concludere. La Lazio mi sono sentito telefonicamente con il direttore sportivo e appunto mi ha dato l'ok per andare avanti nell'adattativa adesso devo convincere il presidente del Liverpool ad accettare le proposte da Lazio. La mia paura appunto c'è questa concorrenza francese insomma che spero che sia sbattuta da una squadra italiana e spero non è la Lazio che è la più vicina per l'udinese ha il diciamo che è molto interessata però prima dovrebbe vendere frotto fuori. Mi dai una percentuale? Ma ad oggi diciamo 80%. chanelto